Oggi si festeggia la giornata mondiale del libro. È un'occasione questa da non perdere, perché è importante educare la lettura, avvicinarsi ai libri, alle storie, alle favole, alle poesie e alle filastrocche. Perché? Perché noi attraverso la lettura stimoliamo l'immaginazione, la fantasia e i nostri dispositivi culturali. La lettura è un viaggio, è un viaggio nella fantasia, è un viaggio nell'immaginazione, è un viaggio che ci fa crescere e ci rende più competenti alla vita e alla nostra quotidianità.